ben trovati su dealflower e diamo il benvenuto al nostro ospite avvocato giacomo lusardi intellectual property dla piper grazie per essere qui con noi grazie dell'invito parliamo di insortec un tema che anche noi di dealflower seguiamo con grande attenzione sappiamo come negli ultimi anni l'italia abbia fatto un deciso passo in avanti quanto a investimenti anche se siamo decisamente indietro rispetto al rispetto all'europa però ci concentriamo sull'attività del dell'avvocato d'affari in questo senso e cerchiamo di capire come si struttura l'attività di consulenza dell'avvocato nell'insortec e perché è così importante avvocato beh l'avvocato d'affari in ambito insortec ha la fortuna di osservare il settore il mercato da una prospettiva che direi privilegiata poiché a seconda dei mandati che gli vengono conferiti si trova ad avere a che fare con i diversi attori di questo settore che sia il fondo di investimento che sia la startup o scale up tecnologica di turno oppure il player tradizionale come la compagnia assicurativa l'avvocato d'affari ha messo in condizione di comprendere a fondo le problematiche che si pongono i diversi attori del settore e quindi di comprendere anche le dinamiche generali del settore i progetti internazionali sui quali gli studi d'affari sono coinvolti danno poi modo anche di confrontarsi con dinamiche che caratterizzano questi altri mercati di riferimento quindi è molto interessante anche da questo punto di vista sappiamo come l'insortec in italia si è impegnata in un'attività di forte necessaria digitalizzazione questo per entrare un po di più nel nel dettaglio del dell'argomento che stiamo affrontando facciamo a questo punto anche qualche esempio insomma di consulenza nell'attività appunto dell'avvocato all'interno del settore insurtech che è veramente molto vasto proprio per questo cerchiamo di andare un po di più a fondo avvocato volentieri le principali direttrici di sviluppo dei progetti insurtech sono tre secondo la nostra esperienza ma anche secondo quanto confermato per esempio dall'ultimo report di italian insurtech association l'investment index 2021 e sono a livello direi generale le operazioni di m&a che ad esempio vedono coinvolto un fondo di investimento che voglia investire in una startup o scale up insurtech al fine di favorirne lo sviluppo e la crescita oppure da parte di player tradizionali compagnie assicurative che vogliano integrare i player insurtech per abilitare e meglio affrontare i propri progetti di trasformazione digitale abbiamo poi come secondo filone di sviluppo dei progetti insurtech i progetti interni che avvengono tramite lo sfruttamento delle competenze interne dei player tradizionali anche attraverso i cosiddetti innovation lab interni attraverso partnership e osservatori con università istituti di ricerca e abbiamo anche come terzo in ultimo ma ovviamente non meno importante filone le partnership tra i player tradizionali l'incambio del settore e player tecnologici che siano fornitori player affermati oppure startup o scale up in questo caso le partnership avvengono normalmente o tramite la creazione di un nuovo veicolo societario che sia posto in condizione di innovare senza dover essere soggetto ai classici vincoli ad esempio di governance che sono imposti alle compagnie tradizionali o anche ad esempio a ostacoli di natura culturale come la resistenza al cambiamento quindi da un lato questo strumento può essere come dire realizzato attraverso la joint venture societaria oppure le partnership possono essere realizzate anche attraverso le cosiddette joint venture contrattuali quindi senza la creazione di un veicolo societario dedicato o anche attraverso mere relazioni di fornitura di tecnologie o di servizi volte alla trasformazione digitale e in questo in questo senso lo dicevamo in apertura il ruolo dell'avvocato d'affari può essere decisivo nel avvicinare le parti e nel passaggio insomma nella transizione al a quello che si è quello che di nuovo si viene a si viene a creare in questo ambito assolutamente sì il ruolo dell'avvocato d'affari può essere decisivo in questo senso come in altri settori anche in ambito insurtech spesso lo studio legale d'affari l'avvocato d'affari è chiamato a dare una veste giuridica al progetto che viene delineato e concepito dal business ma talvolta accade anche l'opposto vale a dire è l'avvocato d'affari a stabilire il perimetro in base a considerazioni di carattere regolamentare o in base ai rapporti contrattuali tra le parti che vengono coinvolte a seconda dello specifico progetto il perimetro all'interno del quale il business si può muovere quindi anche questo aspetto è molto interessante già che ci siamo ti chiedo anche a questo punto avvocato un una view diciamo sul sul mercato prima introdotto spiegando come l'italia stia facendo passi minori passi davanti a livello di investimento c'è la questione della digitalizzazione prima tu parlavi della ritrosia o della paura del cambiamento perché comunque l'approccio umano faccio riferimento a quello che emerge insomma dal settore deve essere deve comunque rimanere in primo piano per cui ti chiedo insomma una fotografia veloce del settore prima di chiudere beh il mercato sta crescendo questo l'abbiamo detto anche all'inizio della nostra conversazione il trend è sicuramente positivo è un mercato in crescita con delle dinamiche di rilievo lo vediamo in base ai mandati sempre più vari e numerosi che stiamo ricevendo ma il dato è chiaramente confermato anche dagli ultimi report tra cui quello di italian insurtech association che citavo un mercato italiano che però arranca ancora un po rispetto agli altri mercati europei di riferimento come francia germania e ci metterei anche il regno unito tuttavia è comunque uno scenario da tenere in considerazione che riteniamo che nei prossimi anni avrà uno sviluppo importante quindi giriamolo in maniera positiva rispetto all'europa c'è ancora tanto da fare però e quindi chiudiamo con una notizia buona l'italia è assolutamente in in crescita e quindi ci sono speranze a che questo questo settore possa diventare sempre più protagonista e continueremo a parlarne anche perché no con l'aiuto di giacomo lusardi che intanto ringrazio per essere stato qui con noi avvocato di lei paper intellectual property grazie buon lavoro grazie a voi